Mi ha fatto un po' di registrazione Ah ma sta rimbrando Allora questo sarà un assolo E' uno strumento E' uno strumento Si chiama batteria E si suona E si suona Perché è uno strumento E' così strano Come prerogativa si suona Dai La batteria Possiamo cominciare? Sì Possiamo cominciare? Vai E' uno strumento 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.